La pianificazione e la preparazione di programmi a tema sono processi fondamentali per garantire il successo di un evento o di un'attività. Questi programmi possono essere organizzati per diversi contesti, come ad esempio feste, conferenze, workshop o eventi aziendali. La prima fase della pianificazione di un programma a tema consiste nell'identificare l'obiettivo principale dell'evento. Ad esempio, se si tratta di una festa a tema, l'obiettivo potrebbe essere quello di creare un'atmosfera divertente e coinvolgente per i partecipanti. Se invece si tratta di un workshop, l'obiettivo potrebbe essere quello di fornire informazioni e strumenti pratici ai partecipanti. Una volta stabilito l'obiettivo, è importante definire il tema specifico del programma. Questo può essere basato su un argomento specifico, come ad esempio una festa a tema anni Ottanta o un workshop sulla leadership, o può essere più generale, come ad esempio una festa a tema tropicale o un workshop sulla comunicazione efficace. Una volta definito il tema, è necessario pianificare le attività e gli elementi che contribuiranno a creare l'atmosfera desiderata. Ad esempio, per una festa a tema anni Ottanta, potrebbe essere prevista una playlist di musica dell'epoca, una decorazione che richiami gli anni Ottanta e giochi a tema. Per un workshop sulla leadership, potrebbero essere previsti speaker esperti nel settore, esercizi di team building e momenti di networking. Durante la preparazione del programma, è fondamentale tenere conto del pubblico di riferimento e delle loro preferenze. Ad esempio, se l'evento è rivolto a un pubblico giovane, potrebbe essere appropriato includere attività interattive e coinvolgenti. Se invece l'evento è rivolto a un pubblico più anziano, potrebbe essere preferibile includere momenti di relax e di socializzazione. Infine, è importante tenere conto del budget a disposizione per l'organizzazione dell'evento e pianificare le attività in base a questa limitazione. Ad esempio, se il budget è limitato, potrebbe essere necessario ridurre alcune attività o cercare sponsorizzazioni per supportare il finanziamento dell'evento. In conclusione, la pianificazione e la preparazione di programmi a tema richiedono una buona organizzazione e attenzione ai dettagli. Definire l'obiettivo, scegliere un tema appropriato, pianificare le attività e tenere conto del pubblico e del budget sono tutte componenti fondamentali per garantire il successo di un evento o di un'attività a tema.